Buongiorno a tutti, oggi abbiamo giocato la seconda partita contro la Palamani per Scafati abbiamo giocato una buona partita, tutto sommato sia in attacco che in difesa c'è comunque da migliorarsi e in futuro da provare tutti gli altri schemi che ci hanno assegnato le impressioni personali sono ottime e in bocca al lupo a tutti i ragazzi che verranno chiamati per questa selezione